Benvenuti in Smash, oggi video speciale dove vi andremo a mostrare cosa è successo in questi giorni in pochi minuti di video senza rompervi le palle con inutili storie che inquadrano in nulla, tipo questa Ok partiamo, la Fishbowl sembra confermare il suo orientamento bisex e le voci di essere andata a letto con Chadrea Rodriguez sembrano essere vere DraftGold mostra un video mentre si allena, con diciamo risultati scadenti dovrebbe iniziare ad allenarsi come sta facendo Sfera in questi giorni, che ha smesso o comunque ha ridotto drasticamente le storie sui social Invece andiamo verso roba più interessante, lo spezzacori della scena treppe italiana più famoso di tutti, ovvero Dark Queen ha messo una foto molto piccante con una ragazza girata di spalle con una schiena completamente nuda I due sicuramente avranno consumato la notte insieme Questa foto sarà servita forse per far ingelosire la sua ex, ovvero Chadia, che a quanto pare è impegnata con Fishbowl Ditemi voi nei commenti oppure nei messaggi direct di Instagram e vi invito a seguirci Chi è questa miseriosa ragazza? Invece continuiamo con Denis Dosio Notizia buona per chi lo ama, notizia negativa forse per chi lo odia Infatti ha rivelato di avere un fratello che è pari a lui, è quasi un gemello, un fratello gemello Chissà se anche lui prenderà un bel bicchiere in faccia, speriamo di no Comunque sì, se ve lo stesse chiedendo, quello non sono io, ma bensì mio fratello Che mi scambiano tutti per gemello, adesso lì era tipo lui l'estate scorsa Però non avevo più foto dal momento che ogni giorno ne posto Luis continua invece il suo tour con i Ferragnez, nella loro casa estiva In questo caso ha messo una storia dove mostra a Lello il video di pasta con tonno di Bello Filo Eccolo, questo è il mondo, è un buon riassunto nel mondo E in tutto questo Malgioglio si ritrova a fare l'autostop in autostrada con il suo caro amato pollicino Metti fuori il pollicino Come? Metti E tutto per oggi, sono stato veramente veloce Vi invito a commentare e a mettere like A 100 like il format verrà riproposto Commentate cosa vi piace e cosa no E ci vediamo nel prossimo video Si ferma neanche un cane, prenderò il sole qui Ciao